Grazie Roberta e vedremo quello che succederà. Grazie a te Reonora, grazie, molto gentile. Ciao Luigi e vediamo che cosa succederà poi, cos'è il tre domenica? Tre domenica. Domenica. Allora, proprio colgo l'occasione, visto che stiamo parlando di alcuni fenomeni, ma non voglio assolutamente avvicinare, e questo lo dico proprio e dichiarato, ciò che oggi viene raccontato, ed è addirittura davanti a un processo di bettificazione, perché c'è un documentario molto bello che andrà su Rai 3, sulla Rai, su Natuzza Evolo, e con questa faccenda di Trevignano, ecco questo lo dichiaro, sono due cose totalmente diverse. Allora, la storia di Natuzza Evolo. Eleonora, sì, siamo dinanzi ad una creatura che nel tempo è venuta fuori nella sua umiltà, semplicità, come una persona che si è ritrovata a vivere la fede anche con delle manifestazioni esteriori che si sono poi manifestate sul suo corpo, dove per davvero ci si è resi conto di una presenza di Dio che in queste manifestazioni anche esteriori, ma soprattutto poi in una spiritualità che questa persona ha vissuto innanzitutto su se stessa, sono diventate anche contagiosa. Come spesso capita, queste persone, questi luoghi diventano poi anche persone, luoghi frequentati. Che storia è quella di Natuzza? La persona di Natuzza Evolo è la persona di una persona mistica che nella preghiera e nella fede sua personale è riuscita anche ad attirare tante altre persone, ma mai si è approfittata di questo dono, che è un dono dall'alto e sempre a tutti ha rinviato al mittente di questi doni. È il Signore che parla, andate a lui e andateci attraverso i sacramenti e la via indicata dalla Chiesa, quella che lei ha percorso, dove lei ha vissuto, sempre in comunione e in discrezione. La persona si ritirava anche a vita privata per lunghissimi tempi, proprio per non essere oggetto di curiosità o altri scopi. Ecco, si parlava di stigmate su fazzoletti, sulle stoffe e poi di tanti miracoli. Su suo corpo, le manifestazioni esteriori, soprattutto nel tempo di Quaresima, ed erano anche delle sofferenze personali, che persone che l'hanno avvicinata hanno potuto constatare e manifestare, che lei ha portato anche in un silenzio che era un silenzio che si univa ai patimenti di Cristo, come anche la scrittura ci suggerisce in qualche modo. Lo ripetiamo vivendoli in una intimità sua, proprio personale, che poi quando le cose si lasciano fare al Signore, si diventa strumenti del Signore, ci pensa lui poi a diffondere quello che è il suo messaggio. E oggi sappiamo essere quello che appunto la Chiesa sta anche riconoscendo attraverso il processo che la sta avviando alla dichiarazione di beatificazione e poi, se Dio vuole, a quello di canonizzazione. I luoghi dove lei ha vissuto sono luoghi anche dove la gente frequenta. La gente ha gridato al miracolo con lei, spesso e volentieri. Si dice che fosse legata poi al grande mistero di Padre Pio. Esatto, ma come diceva Don Gaetano, Paravati dove ci sono stata spesso, non era un luogo dove si respirava questo comportamento, diciamo, di pellegrinaggio a fini economici, perché io ricordo che Natuzza era assolutamente rinchiusa nella sua intima preghiera, non riceveva facilmente le persone, non è possibile definirla una veggente, era una mistica, come ha detto Don Gaetano. E quindi il format che ha acquisito Gisella, riprendendolo da Meciugori, non è la stessa storia di Natuzza nella maniera più assoluta. E' un'altra cosa derivante dalla fede personale di una persona che poi si è messa a disposizione e fare eterno, davvero, con quella che è poi l'espressione più autentica della fede. Signore fai quello che hai deciso di fare. Noi siamo strumenti e signore quando ti metti ad essere suo strumento ti plasma nel meglio che può e nel meglio che sei. Credere o non credere, professore Bira? Noi abbiamo bisogno di credere, ma non di chi abusa della nostra credulità, del nostro bisogno di avere un riferimento e quindi è importante non farsi abbindolare. Perché anche ci sono due difficoltà in quel caso. Una di chi cerca attraverso la manifestazione di attirare, che non c'entra niente con Natuzza che invece, anzi, si nascondeva, perché Dio non è quella manifestazione eccessiva, ma è un nascondimento dove tu poi trovi casa tua, trovi la tua sensazione piacevole. E un'altra è quando c'è una manipolazione. In quel caso bisogna stare molto attenti. Quando noi sentiamo di essere manipolati, quando c'è qualcosa che non capiamo, che non comprendiamo, c'è qualcosa di poco chiaro. Quando ci chiedono i soldi, e glielo dico io, quando ci chiedono i soldi raccontandoci... Raccontando, approfittando delle nostre debolezze, perché tutti noi attraversiamo dei momenti di debolezza estrema. Comunque queste storie, anche le storie brutte, su questa non ci pronunciamo ancora perché dobbiamo aspettare, queste storie non devono assolutamente farci perdere la fiducia e soprattutto la fede. Io credo profondamente, e vi dirò, per quanto riguarda Natuzza avrei voluto tanto conoscerla e fare occuparmi di lei. Roberto, tu ti sei occupato di Natuzza Evolo nel corso degli anni? Sì, sì, mi sono occupato. Tra l'altro io sono amico di Luciano Regolo, che è il condirettore di Famiglia Cristiana, che ha scritto la biografia di Natuzza Evolo, che peraltro, a differenza di altri casi, Natuzza ha centinaia e centinaia di testimoni delle sue apparizioni, cioè parlava con Gesù, con la Madonna, con gli angeli, addirittura anche con i defunti, però era veramente lontana da quello che può essere il fenomeno, quanto veramente un fatto di altissimo misticismo, che è stato molto rispettato. Tra l'altro è stata studiata anche da Padre Gemelli, lo stesso che aveva ostacolato anche il percorso di Padre Pio. Ti sottolineo un'ultima cosa, che Luciano Regolo, tra l'altro, fa parte della Commissione Mariana Vaticana, che sta studiando anche il caso di Cardia. Allora, questa sera alle 23.10 andrà in onda questo documentario su Rai 3, il rifugio delle anime, storia di Natuzza Evolo, la mistica veggente che appunto oggi sta attendendo un processo di beatificazione. Questo documentario con il direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi è firmato da Maurizio Pizzuto e Pino Nano. Non era laureata, non aveva titoli di studio eppure riusciva a comunicare, era una grande comunicatrice. Riusciva a comunicare, parlava tante lingue nonostante avesse appena i primi studi della scuola elementare e parlava molto bene anche delle lingue ebraiche, queste cose non si riescono a spiegare. La scelta della Rai è di sostenere un progetto che parla di una mistica calabrese conosciuta in tutto il mondo. Parte sicuramente dal fatto che stiamo dedicando una collana a questo tipo di temi, temi sensibili, temi che incarnati in personaggi amati dalla popolazione rivestono anche dei contenuti alti e in questo caso direi che il personaggio si sposa magistralmente con questo tipo di linea editoriale perché è un personaggio amatissima dal popolo e quindi auspicabilmente anche dai nostri spettatori. ha saputo in qualche modo incarnare lungo tutta una vita un bisogno di spiritualità diffusa appunto nella popolazione e la capacità anche di donare risposte. Ci sono migliaia di persone nel mondo, non in Italia, nel mondo che sono sicure di averla avuta a casa propria. A casa Natuzza, questa contadina calabrese, in realtà non si è mai mossa per tutta la sua vita, dalla sua casa. E mi vogliono tutti bene, veramente sono convinta che se non fosse per le preghiere di quest'anima che mi vogliono bene, io non potevo vivere. Per Natuzza si è conclusa la fase diocesana o meglio si sta concludendo per accedere al processo di beatificazione occorre l'assenso del Papa. Un primo miracolo per la beatificazione e un secondo miracolo post mortem per la canonizzazione. Questo per essere precisi nel percorso di santità. Grazie, Vira, noi ti vediamo domani.